cosa c'è in programma per il mercato azionario per il 2023 anche a metà del primo trimestre non c'è una forte indicazione in quale direzione andano a finire i mercati il meglio che possiamo dire che l'incertezza sarà il tema sovrano di questo 2023 abbiamo visto delle giornate di splendida salita e delle giornate con degli scivoloni non indifferenti in questo contesto per chi come me ama i dividendi i riz che possiedono e finanziano immobili possono trovare ottimi spunti di crescita guadagnano con gli affitti le vendite immobiliari e gli interessi attivi seguimi fino alla fine di questo video per scoprire i migliori riz per il 2023 o perlomeno quello che piacciono a me ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aef e datore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo voglia acquistare dove ti racconto la mia personalissima esperienza da adebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole dove il link sia per la versione cartacea che per quella kindo appunto qui sotto nella descrizione del video l'ultimo anno non è stato buono pedirit al 15 febbraio 2023 giorno in cui ho finito di raccogliere i dati per questo video l'indice sp us it è sceso di oltre 11 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti in confronto l'S&P 500 è sceso solo del 7.2 per cento nello stesso lasso temporale anche se ci sarebbe da precisare che da inizio 2023 l'indice S&P US REIT sta sovraperformando l'S&P 500 il vantaggio però è che solitamente i REIT hanno una finanziare storicamente bassa in termini di debito rispetto all'attività di mercato detengono anche una buona parte del debito a tasso fisso che non è influenzato per cui dagli aumenti dei tassi di interesse almeno fino a quando quel debito non deve essere rifinanziato fortunatamente anche aspettandosi tassi di interesse alti per un lungo periodo c'è da dire che collettivamente la media del mercato REIT a partire dal terzo trimestre del 2022 aveva una scadenza media ponderata di oltre sette anni ed in questo contesto a mio parere i REIT questo anno possono andare verso l'alto al di là delle singole aziende che possono avere o meno bilanci forti la verità è che molti si trovano a valutazioni basse e per cui ci si potrebbe attendere a meno di eventi che possano impattare i business o la fiducia degli investitori dei ritorni positivi in questo 2023 ma bisogna fare delle scelte ponderate come sempre in qualsiasi investimento i REIT che producono rendimenti molto elevati da dividendo la maggior parte anche se non la totalità provengono dal settore mortgage REIT e possono essere per cui meno affidabili i REIT che producono dividendi da anni se non decenni come ad esempio real income o altri di questo tipo precisi come un orologio svizzo pagano rendimenti molto più moderati si tratta come sempre di scegliere la propria comfort zone valutandola in base alla nostra volontà di esporci o meno a un rischio elevato e poi da lì fare la nostra cernita di quelle che sono le aziende che vogliamo selezionare io credo che creare un equilibrio che aggreghi le due mentalità alto dividendo un po più diciamo traballante e dividendo sicuro o quasi possano farci avere i migliori risultati considerando però che storicamente le aziende definite da dividend growth cioè quelle che costantemente hanno dividendo in aumento nel tempo sul lungo periodo forniscono il rendimento maggiore anche di quelle che hanno un dividend yield molto più alto però in questo video vorrei lasciare perdere i mortgage REIT e tutti quelli un po più rischiosi perché sono la parte più rischiosa appunto di un eventuale portafoglio REIT e per cui mi sono orientato su tre aziende che sono in tre settori diversi che secondo me possono essere un po più stabili e possono aiutarci in questo 2023 e che magari possono anche perdurare nel tempo con queste ottime performance il primo REIT parte dal modello di business più difensivo che è basato sulle esigenze primarie di noi esseri umani la salute da inizio anno l'indice S&P 500 healthcare è in calo di poco più del 2 per cento rispetto a un calo da inizio anno di quasi del 18 per cento dell'indice un po più ampio i REIT sanitari d'altra parte sono in calo di in media del 17 per cento da inizio anno il settore tuttavia presenta favorevoli driver di domanda a lungo termine sia per gli edifici per studi medici che per le strutture infermeristiche qualificate derivanti ad esempio dall'invecchiamento della popolazione tenendomi pertinenti per esempio potrei citare medical property trust o omega healthcare investors che sono due all'interno del settore che offrono agli investitori un potenziale di rialzo significativo e ritenimenti da dividendo molto interessanti ce ne sono tantissimi altri ovviamente per questa lista ho optato per medical property trust non fosse altro perché come citavo in uno short che ho fatto a inizio mese pubblicato appunto su youtube medical property trust ha dichiarato mercoledì 15 febbraio che affitterà l'intero portafoglio ospedaliero dello Utah da 1.2 miliardi di dollari a common spirits health a seguito dell'acquisizione dell'attività attualmente gestita da steward health care system common spirits diventerà uno dei più grandi inquilini di medical property trust una volta finalizzato l'accordo steward prevede di utilizzare i proventi dall'acquisizione da parte di common spirits dei suoi siti di assistenza per ridurre il debito incluso il pagamento anticipato dei prestiti concessi da medical property trust che erano stati dati nel secondo trimestre del 2022 e di altre passività l'SMP aveva minacciato di un downgrade nei confronti di medical property trust proprio a causa di questo motivo e in questo contesto ne verranno innumerevoli benefici con un miglioramento creditizio ma soprattutto più aria per i polmoni del balance sheet dell'azienda e per noi investitori che ci aspettiamo qualcosina in più il self storage è un altro settore basato sui bisogni che merita attenzione negli ultimi 10 anni il settore è stato tra i più performanti tra i migliori piazzandosi al secondo posto totale ma year to date sono in caro del 22 per cento sebbene il self storage non sia visto intuitivamente come resistente alla recessione il settore ha un record fortissimo per quanto riguarda la resistenza alle precedenti recessioni durante la crisi finanziaria del 2007 2008 ad esempio la maggior parte delle aziende aveva perso 40 50 per cento dei ricavi cioè in netto contrasto con il self storage che ha registrato solo un calo del 2.5 per cento cioè dovuto a driver della domanda per tutte le stagioni cioè quando i tempi sono buoni i consumatori in genere acumentano i loro acquisti di articoli per la casa ma anche di altro tipo il che alla fine crea domanda per spazio di archiviazione aggiuntivo e ricordiamoci che appunto qui si parla prettamente di aziende americane dove la spesa è sempre ampia in un senso simile quando i tempi sono brutti esiste ancora la necessità di immagazzinamento ma la necessità lo è ancora di più poiché è probabile che gli individui siano meno mobili a causa dei vincoli di accessibilità per uscire dalle loro attuali condizioni di vita o perché magari rimasti senza un'occupazione senza un appartamento abbiano necessità di andare a posizionare la loro le loro cose personali il self storage offre una soluzione tramite tariffe mensili relativamente più basse nei singoli nomi national storage affiliates nsa il ticker è un nome di spicco nel settore grazie alla loro valutazione a prezzi modesti di appena 13.7 volte i fans from operation ma in questo caso preferisco un rite self storage piccolino che in questo contesto che hai divenendo il più basso nello storage con un solo 3.9 per cento lordo e si chiama life storage un rite azionario auto amministrato ed autogestito con sede a buffalo che gestisce più di 900 impianti di stoccaggio in 30 stati americani diversi e nella provincia dell'ontario in canada questa società serve clienti sia residenziali che commerciali con una utilità di stoccaggio affittata mensilmente life storage fornisce costantemente un servizio reattivo a circa 500 mila clienti rendendolo un leader nel proprio settore ci facci anche un video di approfondimento nel video dedicato ai migliori storage ritz che magari vi lascio qui da qualche parte nello schermo con una delle schede anche i settori con un enorme potere di determinazione dei prezzi come industrial ritz dove i tassi di sfitto continuano a mantenersi a livelli record dovrebbero registrare un rimbalzo con delle valutazioni nei prossimi periodi probabilmente il settore ha già registrato una rincorsa negli ultimi due anni portando alcuni a rifuggire dal settore tuttavia esiste un potenziale significativo all'interno dei nomi chiave del settore playmout industrial con tickle pl ym è uno di questi in calo di oltre il 30 per cento da inizio anno le azioni vengono scambiate a soli 10.9 volte la just advance from operation che è ben al di sotto della mediana del settore nonostante la pubblicazione di risultati operativi ampiamente in linea con il settore ma in questo caso io preferisco il più grande che c'è in questo ambito che è prologis società che ha sede a san francisco in california in questo caso l'azienda ha investimenti su base interamente controllato attraverso iniziative di co-investimento proprietà e progetti di sviluppo che raggiungono un totale di circa un miliardo di piedi quadrati in 19 paesi diversi del mondo azienda molto diversificata azienda affitta strutture logistiche ha una base diversificata di circa 5.800 clienti principalmente in due categorie business to business e vendita al dettaglio online la società opera e gestisce la propria attività su base posseduta e gestita o and m own and manage dall'inglese e pertanto valuta la performance operativa delle proprietà per il suo portafoglio o m che comprende le sue proprietà consolidate e le proprietà delle iniziative di co-investimento non consolidate ovviamente questi tre riz sono solo citati in questo video ma mi piacerebbe approfondirli in maniera maggiore se ne siete ovviamente interessati voi perché io sono qui a vostra disposizione con delle videonarisi magari più a 360 gradi anche perché buttati così possono non dire niente a nessuno ma mi piaceva portarvi le mie scelte le mie considerazioni in merito attendo un vostro feedback su un eventuale approfondimento mi raccomando non devo precisarlo perché so chi mi segue con costanza e consapevole ma per chi si avvicina a questo mondo da poco non si può pensare di costruire e basare un proprio portafoglio di investimenti solo sulle tre aziende che ho citato in questo video serve una base ampia di diversificazione bene se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per farmi crescere qui sulla piattaforma te posso immaginare che costa pochissimo un attimo del tuo tempo ma per me significa veramente tantissimo se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente bene e anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video ciao a presto